OnePlus ha annunciato la scorsa settimana il OnePlus 3T, uno smartphone che va ulteriormente a migliorare OnePlus 3 aggiungendo nuove funzionalità hardware e software. Ed oggi ci focalizzeremo proprio su queste novità che hanno permesso a questo OnePlus 3 di diventare uno smartphone ancora più interessante. Resta del tutto invariato il design, ad eccezione della nuova colorazione gunmetal un po' più scura rispetto alla grafite del OnePlus 3. A questa si affiancherà nelle prossime settimane anche la colorazione soft gold. Trovo sempre molto comodo lo switch zigrinato a tre posizioni che permette di limitare rapidamente le notifiche a quelle con priorità o escluderle del tutto. Una delle novità più interessanti riguarda il processore. Si passa infatti da uno Snapdragon 820 al nuovo Snapdragon 821 da 2.35 GHz con GPU Adreno 530. Oltre a migliorare le prestazioni, questo processore è più efficiente e permette anche una maggiore autonomia. L'aumento di prestazioni possiamo notarlo effettuando alcuni benchmark che evidenziano dei risultati decisamente migliori. Nell'utilizzo quotidiano tuttavia questa differenza non sarà molto evidente. OnePlus 3T come OnePlus 3 si utilizza con piacere dell'interfaccia utente sempre molto fluida e le applicazioni si avviano rapidamente. La RAM resta sempre da 6 GB di tipo LPDDR4 e ci consente di tenere attiva in background un discreto quantitativo di applicazioni. Avere 6 GB di memoria RAM tuttavia lo considero importante per quanto riguarda la longevità. Altra novità riguarda il taglio di memoria. Alla versione da 64 GB infatti si affianca anche una nuova versione da 128 GB, sempre di tipo UFS 2.0 e sempre non espandibile. Questo taglio di memoria sarà unicamente disponibile con la variante di colore Gunmetal. Con il OnePlus 3T migliora anche l'autonomia grazie ad una batteria più capiente. Si passa infatti dai 3000 mAh del OnePlus 3 a 3400 mAh. Questo aumento di capacità unita ad una maggiore efficienza del processore consente ovviamente di ottenere dei risultati più interessanti. OnePlus dichiara un aumento di circa il 13% rispetto a OnePlus 3 percentuale che posso confermare. In media infatti con il mio tipo di utilizzo sono riuscito a coprire circa 16 ore con 4 ore e mezza 5 di display attivo. Anche il OnePlus 3T integra un sistema di ricarica rapido con tecnologia Dash che grazie a questo caricabatterie e cavo in dotazione ci consente di arrivare a circa il 60% in 30 minuti. Ottime notizie per gli amanti dei selfie, questo OnePlus 3T infatti integra una nuova fotocamera anteriore da 16 megapixel realizzata da Samsung con apertura f2.0. Questo sensore riesce a catturare delle foto di buona qualità anche in condizioni di illuminazione un po' più difficili. OnePlus ha anche migliorato l'algoritmo dello stabilizzatore digitale della fotocamera posteriore che resta sempre da 16 megapixel ma ora è anche più protetta grazie all'utilizzo di un vetro zaffero più resistente. Vi parlo infine anche delle novità software che arrivano con la versione 3.5.1 dell'interfaccia utente Oxygen OS basata ancora su Android in versione 6.0.1. Qui devo dire che OnePlus mi ha un po' deluso, ovviamente mi sarei aspettato Android 7, tuttavia almeno secondo quanto mi è stato detto entro qualche settimana dovrebbe essere aggiornato così come OnePlus 3 che probabilmente riceverà Nougat anche un po' prima. Questa versione di Oxygen OS offre diverse novità sia estetiche che funzionali. È stata rivista la grafica di shelf e della tendina delle notifiche, è stata aggiunta un'applicazione per il meteo, la possibilità di capovolgere il telefono per silenziare una chiamata in arrivo e anche la possibilità di bloccare l'apertura delle applicazioni tramite PIN o tramite il riconoscimento delle impronte digitali. Interessante è anche la possibilità di decidere quando chiudiamo le app in multitasking se eliminare solo l'elenco delle attività e cache o se andare a cancellare tutti i processi in background. Sono state anche riorganizzate le impostazioni per la calibrazione del display, qui troviamo anche la possibilità di attivare la modalità sRGB che prima è delegata all'interno delle opzioni sviluppatore. Per quanto riguarda la registrazione video arriva anche il Full HD a 60 frame al secondo. Ricordo infine che anche il OnePlus 3T ha il bootloader sbloccato per installare senza problemi ROM di terze parti. Il OnePlus 3T è in vendita da oggi negli Stati Uniti ma per poterlo acquistare anche in Italia bisognerà attendere il prossimo 28 novembre. Sale leggermente il prezzo di vendita a 439€ per la versione da 64GB, 40€ in più invece per la versione da 128GB che è quella che vi consiglio. Per quanto riguarda il mio giudizio resta pressoché invariato rispetto a quanto detto nei mesi scorsi sul OnePlus 3. Si tratta di uno smartphone che ha davvero tanti punti di forza e in modo particolare ancora più le prestazioni. Tra i contro posso continuare ancora a mettere l'assenza dell'impermeabilità di un doppio speaker stereo e anche di una cuffia in dotazione. Comunque per avere qualche informazione in più su questo OnePlus 3T vi invito a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HDblog. Grazie a tutti!